sui balneari, addirittura, è una cosa molto diversa dai mercati, io lì sono durissimo sui balneari, queste licenze sono state date anche 70 anni fa, vengono passate di padri in figlio, c'è un mancato pagamento e aggiornamento dei canoni in quasi tutte le realtà, io lì sono per l'applicazione da Bolkestein, perché se io domani da cittadino voglio poter giocare la partita di diventare un gestore balneare, ho il diritto di poterlo fare, per quale ragione ci sono? No cara Borgonzoni, te lo dico perché è facile prendere gli applausi parlando con quelli che le licenze ce li hanno, ma io vorrei sapere, tutti parlano dei giovani, ma un giovane che oggi non ha avuto la fortuna di avere un nonno, che ha avuto una concessione, come qua a decidere di fare quel mestiere, rispettiamo la posizione di un uomo che non potrà mai andare al mare quest'estate, adesso si usa la crisi perché basta, e basta, e basta, al mare, guardi io servo da faccio, quando tovo la spiaggia libera vado sulla spiaggia libera, ma adoro lo stabilimento ben organizzato, la differenza sa qual è? Che io cerco lo stabilimento che mi fa la ricevuta fiscale, deve avere pazienza e vado in quello stabilimento lì.